fiamme e fumo che si alzano in cielo da un palazzo nel centro di tradate è accaduto nella serata di ieri intorno alle 20 in via 25 aprile il rogo si è sviluppato sul tetto di un edificio di tre piani nelle vicinanze del municipio e ha attirato sul posto diversi curiosi due le persone intossicate si tratta di due uomini che sono stati trasportati all'ospedale cittadino ma non hanno riportato gravi ferite subito allertati i soccorsi con i vigili del fuoco e i carabinieri giunti sul luogo dell'incendio le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono proseguite per tutta la notte e anche nella mattinata di oggi ancora ignote le cause che hanno provocato l'incendio ancora al vaglio degli inquirenti